E' bello a tutti ragazzi insieme io, raga, oggi torniamo con un nuovo video di Rocket League Raga, oggi vi mostro come avete letto dal titolo come entrare in una partita personalizzata O da soli o con i vostri amici che volete voi, non con i bot Vabbè, è meglio farlo vedere che legarlo, vabbè, dopo la sigla vi faccio vedere Ok raga, eccoci, eccoci su Rocket League Dobbiamo andare prima di tutto, dovete lasciare un mi piace se i miei contenuti vi piacciono E secondo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Vabbè, andate su gioca Poi, incontri personalizzati Partita privata Crea una partita privata E adesso scegliete il match La modalità io lascio giorno di neve Arena Arena Scegliete voi Cosa fare? Io lascio questa Dimensione della squadra Wow Lasciamo anche questa Poi, difficoltà dei bot Qua, scegliete voi Io, per farvi vedere, lascio nessun bot Poi, dopo, mettiamo i bot per farvi vedere meglio Poi, regione Io lascio consigliata, ma se volete essere più sicuri Mettete Europa Però, lascio consigliata, va Accessibile da Io lascio sempre nome Barra password Postazioni squadra Qua Scegliete voi Io Io qua Scrivo nero Comunque avevo fatto una prova prima E sotto Mettiamo Non so Scusate Mi stavano Llamando Scusate Scusate Poi Qua sotto Mettiamo Blu E Facciamo Dietro Fa Scegliete voi Impostazioni mutatori Scegliete voi Io non lo faccio Però Ragazzi Facciamo Creare una partita E Fa Scegliete il nome Io metto Il Soler E password Lo stesso Il Soler Crea una partita Scegliete voi Potete anche in spettatore Però Per farvi vedere Faccio Nero Aspettiamo E raga Qua Siamo Soli A posto Della palla C'è Il Dischetto Come su un campo Da Ok Ok Vi ho mostrato Da solo Vi mostro Con le persone Funziona Lo stesso Modo Gioco Incontri Personalizzati Partita Privata Crea una partita Privata Lascio Tutto E Cambio Su Principi Ombolo Se volete Basta che sia Botto Scegliete voi Scegliete voi Scegliete voi Questo Questo qua Vabbè E E E E POM Raga Qua Perché Sono Non è Lo Scusate E Dunque Se volete Entrare Nel match Dei vostri amici Sempre Gioca Incontri Realizzati Scusate Incontri Personalizzati Partita Privata E A posto Di creare una partita Privata Fate Unisciti a una partita Privata E mettete In questo caso Io prima ero Da Uno Streamer Su Twitch E fate Parteci Comunque Adesso Non la trova Perché Non c'è più Comunque Fate Mettete Nome Più Amassoli Comunque Tranquilli Tutti potete Farlo Tranquilli E Vabbò Ragazzi Per oggi Tutto Vi ho dimostrato Che potete Fare le partite Personalizzate O Chiudiamo Rocket Perché tanto Devo andare Vabbè E E raga E raga Vabbò Ci do Rocket E E raga Vabbò Ditemi Che ne pensate Di quello Che vi ho fatto Vedere oggi E raga Non c'è che dire Di vederci In un prossimo Video Dammi le stendini Beh Mi stavo Ingannando Da solo Adios Ciao Ciao